Al Comune Generale di Fascia, Siondo e Lurond, per mettere su il programma di coordinamento per l'accordanza per il patrimonio naturale di Fascia. Con questo programma, vogliono valorizzare nel mondo, nelle risorse naturali e generare una vita più percacente al stravardamento dell'ambiente che sta a val. Speriamo che la Comunanza di Fascia possa lavorare con noi, acquisire le importanze obiettive e, in dena, buona il sudaladino a tutti. Grazie per la visione!